Siamo appena arrivati a Bucharest Grazie a tutti Grazie a tutti Siamo al parco Erastrau Grazie a tutti Grazie a tutti Siamo raggiungendo la cattedrale patriarcale dei Santi Costantino e Elena Siamo alla volta del Parlamento L'edificio più pesante al mondo Il secondo per superficie e il terzo per volume Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti